Ho avuto il piacere di finire e farmi inquietare dal recentissimo Scorn, titolo di casa Heb Software. Sembra assurdo parlare di Scorn, visto che è un titolo in sviluppo da così tanti anni che molti di noi avevano perso le speranze. Ma qua si parla di un titolo particolare, una sorta di forma di artigianato. Infatti Scorn non è altro che un enorme tributo alle opere di H.R. Giger, artista svizzero entrato nell'immaginario collettivo anche grazie al lavoro svolto da Ridley Scott con Alien, che è venuto a mancare nel 2014. Ad oggi di Ghiger, infatti, è possibile visitare il suo museo a Chateau Saint-Germain. Ma Scorn com'è? È un FPS in prima persona, molto più puzzle game e meno FPS. È letteralmente un'avventura nell'agonia più totale. Non aspettatevi quindi dei lieto fine, perché Scorn vi trascinerà all'inferno. È un po' come entrare all'agenzia delle entrate e finire a parlare con un operatore SIAE. Se siete amanti dell'horror e dei dettagli, Scorn ne è pieno. Un lavoro sublime, soprattutto dal lato estetico e di rispetto verso le opere di Ghiger.